A due anni dalla nascita del progetto Innovation Box, che mira a promuovere l'innovazione nelle imprese e all'interno del quale sono state realizzate numerose attività formative e di networking alla presenza di centinaia di imprenditori e decine di stakeholder, la CNA di Ancona lancia il suo Digital Innovation Hub. Il Digital Innovation Hub è previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Sono quelle piattaforme che permettono di interfacciare le imprese del territorio con l'innovazione e la ricerca. CNA di Ancona ha già avviato un progetto sull'innovazione due anni fa, che si chiama Innovation Box. Quello che noi lanciamo ora, il nostro Digital Innovation Hub, è l'evoluzione di quel progetto Innovation Box. Noi siamo in grado, attraverso la partnership con alcuni partner strategici del territorio, di offrire alle imprese tutta la formazione, consulenza e servizi di cui le imprese hanno bisogno per innovare le loro imprese. Stiamo parlando di partnership con l'Università Politecnica delle Marche, ma anche con imprese private che si occupano di automazione, di cyber security, di certificazioni, di ricerca e sviluppo. Attraverso queste partnership le imprese del territorio, rivolgendosi al Digital Innovation Hub di CNA, saranno messe in relazione con tutte le competenze di cui hanno bisogno. L'evento avrà luogo venerdì 20 aprile alle 17 presso la Mole Van Vetteliana di Ancona e grazie ad un parterre di esperti saranno illustrate le nuove politiche, le tecnologie abilitanti 4.0 e le politiche a sostegno dell'innovazione delle imprese. L'evento di lancio di CNA Innovation Hub è il momento in cui effettivamente diamo conoscenza a tutte le imprese del territorio e agli stakeholder del territorio che CNA è in questa partita, che le imprese possono effettivamente rivolgersi a noi per ottenere tutte le informazioni, i servizi e le consulenze di cui hanno bisogno.